pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà, ho giocato tre numeri all'otto, 35, 60 amici di prima facebook che siamo in diretta sulla mia pagina facebook e poi popolo di youtube che questa diretta la vedrete verso le ore 17 e 53 per i numeri a 10 all'otto ogni 5 minuti, oggi è la quinta puntata vi sto tenendo in compagnia, amici vi faccio vedere a voi amici di youtube, vi faccio vedere chi ore sono ma è possibile secondo voi che posso sapere sempre i numeri a 10 all'otto ogni 5 minuti che sono le 2 scarse 20 quasi del pomeriggio e già so quello che deve accadere alle ore 18, io lo posso sapere amici e lo dico sia alla pagina facebook e che sia a tutti gli amici di youtube per questa sera alle ore 18 si mettono in gioco i numeri dalle ore 18 alle ore 19 amici dalle ore 18 dalle ore 18 ore 18 alle ore 19 amici si mettono in gioco questi frequenti numeri ok me l'ho dimenticato l'orario a scrivere qua sopra e lo sto scrivendo ecco a voi 19 a posto un'ora si mettono in gioco questi numeri ieri è stato vinto e oggi vinciamo l'altra volta ecco a voi vi faccio vedere amici ecco qua ecco qua eccoci qua amici allora quinta puntata marco zollo presenta 10 all'otto ogni 5 minuti ore 18 alle ore 19 si mette in gioco l'estratto 90 poampo 78 e 90 buona fortuna ripeto quinta puntata ripeto 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 quinta puntata marco zollo presenta 10 all'otto ogni 5 minuti dalle ore 18 si mette in gioco dalle ore 18 fino alle ore 19 amici l'estratto 90 e lambo 78 e lambo 78 e 90 dalle ore 18 amici e secondo voi amici della pagina di facebook posso mai sapere all'ore 18 che cosa può uscire io lo so nessun lottologo non lo può sapere gli faccio vedere l'orario eh sono le 14 e 20 sono le 2 e 20 del pomeriggio 2 e 20 3 e 20 4 e 20 5 e 20 3 ore 40 minuti prima so cosa deve uscire amici ok buona fortuna a tutti voi e ci vediamo questa sera per la vincita amici non so ancora forse ma forse una brutta notizia e speriamo non è così stanno girando una voce che vogliono togliere il lotto speriamo di no forse il lotto lo rimangono tabacchini forse vengono chiusi tutti però il lotto forse lo rimangono che non lo possono toccare però si potrà giocare solo da casa solo da casa con il conto gioco sperando che non chiudano proprio la lottomatica ma io so che la lottomatica non può essere chiusa e allora però i tabacchini possono essere chiusi e possono spegnere la lottomatica del tabacchino però la lottomatica della durna dei numeri non possono toccare lì penso io si può continuare a giocare però giocando solo da casa con il conto gioco amici apritevi tutti chi non ha ancora il conto gioco avete ancora tutto il tempo di aprirvi il conto gioco vi spiego come si apre il conto gioco amici dal pc inserire tutti i vostri dati nome, cognome, dato di nascita poi là vi cerca il codice fiscale post appeal numero della post appeal dovete tenere minimo dei soldi caricati sopra vi consiglio di caricare un 100 euro sopra e così poi inserite tutti i dati dopo inserire tutti i dati potete giocare sia all'otto sia a 10 all'otto ogni 5 minuti sia a 10 all'otto serate e anche scommesse calcio però scommesse calcio sono su spese e non si possono giocare e si può giocare tutto poi dal conto gioco dal conto ok? tanto quando lo aprite stesso il link di sopra dove andate con il conto gioco vi indica come lo dovete aprire vi cerca i dati ok? buona fortuna per questa sera ecco a voi non ti faccio vedere i numeri ecco qua ok amici? quinta puntata Marco Zolo presenta a 10 all'otto ogni 5 minuti ore 18 fino alle ore 19 l'estate 90 e poi lampo 78 e 90 buona fortuna a tutti voi ok? a questa sera e buona giornata e buona serata a tutti voi per voi sono le 18 perché a voi di youtube io dico eh? questa puntata poi viene emessa alle ore 17 e 55 e buona serata a tutti voi ciao 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 e buona fortuna e si vince ciao 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 ciao